Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna e da... Ciao cari! Dall'assistente. Bene, se vi piace questo look che ho lo trovate sempre su Instagram. Vabbè, caso mai vi interessasse, è pubblicato su Instagram del 14 ottobre. Il rossetto che indosso, stamattina su Instagram avevo un altro colore, quello che indosso adesso è Velvet Beauty, meraviglioso rosa vellutata, non so se si vede, di Lisa Henridge, costa una fucilata, quindi non mi sento neanche di consigliarvelo. Comunque, il tema di oggi è 15 prodotti per la skin care del corpo, proposto da una ragazza in un commento su YouTube, se non vado errato. Se ci sei, palesati. Perché non sempre poi riesco a ritrovare i commenti, perché come ho detto anche altre volte, e di questo ovviamente ve ne ringrazio immensamente, i commenti sono tanti e direi che sono al 99% sempre positivi. Poi qualche cafoncello c'è sempre, ma raramente. Veniamo a questi 15 prodotti per, naturalmente sono quelli per la skin care del corpo, sono ovviamente quelli che uso io, non è detto che siano i migliori al mondo, non è detto che vadano bene a tutti. Allora, becchiamoli così come sono. Ce l'ho qui tutti schierati. Allora, per idratare il corpo, io adoro questa che ho scoperto quest'estate, è Hydro Boost di Neutrogena, una lozione per il corpo in gel, ha una consistenza fantastica, perché è un gel azzurrino, molto lenitivo, fresco per l'estate, secondo me è perfetto. Invece per l'inverno, ne uso anche altre, adesso quelle che ho in casa sono queste qua, per l'inverno invece stavo usando, poi ovviamente con l'arrivo del caldo l'ho sospeso, di Eucerin, il balsamo corpo a texture leggera, anche per pelle atopiche e quant'altro. È un tubone di 400 ml, quindi vi dura sicuramente tutto l'inverno. È un balsamo, quindi è bello corposo, è texture leggera, perché è quella con la texture, insomma, più ricca, mi sembrava un po' eccessivo, ecco. Comunque questa texture è piacevole, ovviamente adatta più all'inverno. Con questo qui invece vi potete anche rivestire subito dopo, con quell'altro dovete aspettare un cicinin. Poi, per quanto riguarda invece, vabbè, procediamo così, la pulizia del corpo. In estate io tendo ad usare questi bagno doccia ultra delicati di Garnier. Questo qui è quello buonissimo, alfico orientale, zucchero di canna. Per adulti e bambini idrata e purifica. Devo dire che il profumo è splendido, costano poco, adesso non so l'inci, non lo so valutare, non ve lo so dire, però comunque sono sicuramente delicati. Ci sono tantissime profumazioni. Quella profumazione mi sembra particolarmente adatta all'estate. e invece per l'inverno, questo è un mero esempio di Tesori d'Oriente, l'olio doccia ha gli oli di riso e Tsubaki emolliente, sostanzialmente per una pelle delicata o comunque che non sia proprio grassa, un olio doccia è molto indicato, secondo me, perché non vi unge per niente. Non so se sapete come funzionano, voi lo massaggiate magari con una di quelle spugnette a rete che poi lavate dopo un utilizzo, secondo me, lavate immediatamente in lavatrice. Però appunto si sciacqua perfettamente, se è di buona qualità e non unge. Questo ha un profumo fantastico, questo me l'ha regalata una mia amica. Poi per l'igiene delle mani, io uso da tanti anni questo sapone, questa è la ricarica, un sapone liquido con antibatterico e vitamina E del marchio Quando è solo per te, che si trova nei vari tigotai e robe del genere, 100% riciclabile, quindi 50% di plastica riciclata. È molto delicato, secondo me. Consigliano di sciacquare con acqua tiepida, questo è un litro, me costa una stupidata, tipo un euro e qualche cosa. Un euro e spicci, come dice la Lucy Medici. Poi, sempre per l'igiene del corpicino, io super consiglio questo che, insomma, ne esistevano quasi più questi meravigliosi, diciamo, credo che non contenga talco, non vorrei dire una sciocchezza, ma è un ottimo prodotto, non contiene talco, della collezione I Lirici di Eri Chioba per Cosma Hi-Fi. Io ho scelto Butterfly, che è quella senza alcuna tonalizzazione, non che gli altri, sempre ispirati a eroine della lirica, vi colorino la pelle. Questo è in colore, ha un profumo delicatissimo di violetta, che si usa così, voi andate con il vostro puffettino, tanto qui i buchetti ne fanno sempre uscire un po', e lo mettete sul decolletele, piega dalla pelle, non secca la pelle per niente, vi lascia un delicato e piacevolissimo, ho profumo nickel tested, si si è senza talco, è anche vegano eccetera, e poi le confezioni sono così, poi a seconda della profumazione, questa appunto è Butterfly, poi c'è Carmen, e altre insomma, mi pare ci sia la traviata, quello che sia, tanto sono tutte buonissime, e la formula poi è la medesima, quindi insomma ecco. Poi sempre per le pieghe della pelle, laddove ci sia qualche problema, o tendenze fungine, o qualche problemuccio dermatologico, tenete sempre presente le paste ad alta protezione, quelle che si usano per i neonati, questa è la fissa, non so, non credo che abbia un inci proprio strepitoso, adesso ne è uscito uno, però in questo momento non ce l'ho in casa, c'è anche la versione green, con un inci migliorato, questo è il vasetto da 150 millilitri, se no c'è il tubo che è anche più igienico, dicevo con un inci più verde, comunque quando io prelevo, lo faccio di sotto con un cucchiaio, cucchiaino, quindi cerco di farne un utilizzo, il più igienico possibile, però questo solo nelle pieghe della pelle, laddove, soprattutto in estate, se c'è qualche problemino, non patologico ovviamente, poi per cura della pelle, sinceramente io intendo anche il deodorante, io uso sempre deodoranti delicati, secondo me è molto buono, ovviamente non ha parabeni, non ha robacce brutte, peg, non ha neanche siliconi, né ingredienti di origine animale, quindi è anche vegan, e questo splendido, a stick, dico da lì, vino fresh, è eucalipto e uva, senza sali d'alluminio, senza alcol, è veramente delicatissimo, pesa tantissimo, perché è la confezione, molto robusta, 50 grammi, sì magari da viaggio, è un po' grande, è un po' grosso, però vuol dire, ha un profumo direi, secondo me non è profumato, è fragrance free, meglio, a me le cose sapete molto profumose, non mi fanno poi impazzire, più di tanto, poi sempre per l'igiene del corpicino, io uso sempre nelle pieghe della pelle, e con molta moderazione, o questo lo uso in estate, perché c'è questa confezione ricaricabile piccolina, che è comodissima da portare, in vacanza con voi, e se no, che sicuramente ha un inci migliore, la polvere è finissima, con amido di riso, di eufidra, amido mio, e questo si apre così, comodissimo, non ha tappo, così è chiuso, così è aperto, è dalla consistenza veramente finissima, impalpabile, ma quello che io segnalo, questo, il classico borotalco, che sicuramente ha un inci meno caruccio, di questo, però, così mi dicono, però questo non vi secca la pelle, secondo me, questo, attenzione, perché è molto assorbente, quindi, usatelo veramente con molta moderazione, perché vi può seccare la pelle, a poi, dunque, come, ecco, la dimenticavo, come crema da mettere dopo la doccia, o dopo il bagno, non so, io faccio la doccia, oltre a questo, ottimo in estate, e oltre a questo, prodotti similari, ovviamente, che va benissimo in inverno, per tutte le stagioni, c'è la creme, la creme de corps, di Kils, è ottimo, questo è una loro travel, di 30 millilitri, ma c'è in diversi formati, e c'è anche nella versione, questa è la crema, più corposa, e c'è la versione anche in lozione, questa è molto buona, un delicatissimo profumo, sapete che i prodotti Kils, non sono profumati, ma, casomai, la loro eventuale fragranza, è dovuta agli ingredienti utilizzati, è un fantastico brand, io lo amo molto, e lo sapete. Poi, un'ottima crema mani, questa è quasi finita, è, alla rosa selvaggia, di, nutre e riequilibra, di, Nils Yard Remedies, Coven Garden, è una marca, un brand, che io ho conosciuto, tramite look fantastic, perché questo tubetto di 50 millilitri, non ha parabene, non ha, insomma, credo che sia vegano anche questo, non ha colori sintetici e quant'altro, è molto buono, sta finendo, è praticamente finita, ce n'è ancora un ciccini, e non bisogna dimenticarsi, non che io me ne ricordi sempre, cioè la crema mani la metto quasi mai, perché, ma non va bene, andrebbe messa tutte le sere, infatti, dovrebbe stare, sul vostro comodino, insieme a una buona crema per i piedi. Questa è di Bottega Verde, è buonissima, molto idratante, con olio di jojoba, e oli essenziali di menta e di timo, contro la secchezza dei piedi. Ha un profumino, ovviamente un po' mentolato, ma niente di particolarmente disturbante, ve lo dice una che non ama i profumi, e quelli mentolati, men che meno, ma è molto delicato, e idrata veramente molto bene. Poi ci sono quelli anche di Dottor Schultz, ci sono quelle di quella marca tedesca, che in questo momento mi sfugge, comunque anche questo è un ottimo prodotto, ci sono diverse alternative. Poi, per il contorno labbra, alla sera, qui adesso il vasetto, insomma, si è rotto il tappo, ma consente comunque una discreta chiusura, tanto comunque sta finendo, ce n'è dentro veramente molto poco, c'è solo un po' il fondino, se riuscite a vedere qui, insomma ce n'è proprio un millimetro, e neanche omogeneamente distribuito, è Reve de Miel di Nuxe, questa è proprio una pomatona, è una pomata, non è un balsamo labbra, secondo me, è una vera e propria cura intensa, da usare su tutte le labbra e anche sul contorno, quindi non la si consiglia mai di giorno, ma va usata di notte, proprio perché dovete sbordare, per idratare bene le labbra. Previene la secchezza, infatti io molto raramente soffro di secchezza le labbra, tranne che c'è gran freddo, gran vento, ma poi adesso comunque con le mascherine, che hanno l'aspetto positivo, di proteggerci anche, innanzitutto da cose brutte, ma anche ci proteggono dal freddo, nella stagione fredda, quindi questo comunque per la sera, nella skin care serale, è ottimo. Di giorno invece sapete che sto usando, e mi piace molto, ad emettere all'inizio del make up, e questo diventa un prodotto bonus, che sono 15 più questo, bacio, burro per labbra di Daphne Cosmesi, o Cosmesi, boh non lo so, comunque è interessante perché, ha la forma di un burro di cacao normale, e la cosa interessante, è morbido certo, ma non è morbidissimo, non è di quelli che vi si liquefano, e nel giro di una settimana, ve bello che è finito, come consistenza, si avvicina anche ad un buon rossetto idratante, per cui sta su, vi dura, e non trasborda, resta lì dov'è, intanto che vi truccate, per ultima cosa mettete il rossetto, così questo intanto viene assorbito, non rovina il rossetto, e non ve lo fa assolutamente sbavare, ve lo garantisco, perché poi io avendo tante rughe, sul contorno labbra, tante righine, è ovvio che, se trasborda il rossetto, lo vedo subito, con i gloss spesso mi succede, ma con i rossetti, anche mettendoci sotto, un prodotto morbido, morbido come questo, morbido ma non troppo, non succede assolutamente niente, concludo in bellezza, con un prodotto intimo, ma bisogna parlare anche di queste cose, o perché no, a me non scandalizzano, e ve l'ho citata tante volte, la carta igienica, umidificata, soprattutto utile da portare in giro, questa è la confezione un po' più grande, ma ci sono anche quelle piccoline, anche da dare ai ragazzini, ai bambini, quando vanno a scuola, in caso di necessità, può servire, e questa è la, forse quella che preferisco, l'enitiva riequilibrante, la Easy Fria, è ottima, questo è, è ovvio che economicamente non conviene, però saltuariamente, insomma si può usare, ha un pao molto breve, di tre mesi, perché credo che non abbia, conservanti né nulla di tutto ciò, e niente, eccola qua, è quella con la confezione lilla, con la cosa qui, con l'apertura lilla, ma insomma c'è in tante profumazioni, c'è anche nel tipo mille usi, eccetera eccetera, e ripeto, c'è sia nel formato piccolino, che in quello grande, il paccone grande da casa, forse c'è anche più grande di questo qui, non so, comunque, quindi questi sono i 15 prodotti, più il bonus, di prodotti di skin care del corpo, sono ripeto, quelli che uso io attualmente, quindi ovviamente, nessuna legge scritta sulla pietra, poi li cambio, ne sostituisco con altri, poi c'è tutto il settore delle maschere, ma insomma, però quello già più era, mi sembra, sulla skin care del viso, ecco, ho cercato quindi più di concentrarmi, sulla skin care del corpo, come era un po' la proposta, che ha fatto quella, in quell'utilissimo commento, quella ragazza. Bene, come di consueto, spero di avervi fatto passare, un quarto d'ora in leggerezza, e magari anche con un po' di utilità, e abbiate un saluto, un bacione, dalla vostra gattaluna, cari amiche, cari amici, ricordatevi sempre, che io sono anche su Instagram, e sono su, su imperverso, anche su Instagram, quotidianamente, e poi, quando trovo, un desiderio, o delle foto interessanti, anche su Pinterest, e vedo che in effetti, stanno aumentando gli iscritti, su Pinterest, anche, anche quelli su Instagram, e naturalmente, ve ne ringrazio tantissimo, aumentano anche gli iscritti, al canale, quindi io ringrazio, ovviamente, sia gli iscritti, di vecchia data, i fedelissimi, che mi seguono sempre, con generosi, generosissimi commenti, e naturalmente, anche le new entry, che sono bene accette, l'unica regola, che io metto, è quella della buona educazione, ma mi sembra il minimo, quindi, ricordatevi, di fare sempre, ciò che vi fa stare bene, quindi abbiate di nuovo, un saluto da me, e da, e dall'assistente, quindi non mi resta che dirvi, alla prossima, ciao amiche amici,